Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi giocheremo a Fall Guys Ok, questa mappa, come giocare, ok, sembra facile Ok, dai dobbiamo collegarci, io sono quello rosso, no cavolo, no sono morto, dai dobbiamo farcela No no no, ok, ok, vai, vai, ok, ok, per il momento ho tutto a posto Oh cavolo, rinoceronti, non pensatemi, ok, dai che mi qualifico, dai che mi qualifico No, cavolo, non questo quello sportino, ok ok, vado di qua, sì, è qualificato, ok Vediamo questo tizio, rosa, e questo mi sa che è un botto, mi sa proprio che è un botto Ah no, forse è una persona vera, guarda, no, questo non ce l'ha, non ce l'ha, non ce l'ha Qualificato Ok, era un finito Uff, guarda tutti questi player, sono morti Ok, ci ho giocato e una volta ho vinto una volta, non penso che ce la posso fare anche questa volta, però proviamo Ok Aspetta, però mi ha cambiato skin, perché mi ha cambiato skin? O io la vedo così? Perché io prima ero rosso, perché mi ha cambiato skin? Boo, non capisco Mi ha cambiato skin inutile, cioè, Boo, è un bug che full cast deve risolvere o non lo so veramente? Perchè, boh, vabbè Noi qualifichiamoci 38 bolle, 39, 40, 41 Nooo, cavolo, mi stanno rubando tutte le bolle 42, 43, 45 Scusate se non mi sentite a parlare, è solo che sto tryhardando Ah, io mi sono qualificato, è vero Ero un altro questo Speriamo che torno con la skin che avevo prima Ok Questo non ci ho mai giocato Me l'ha cambiata di nuovo skin Perchè? Perchè? Non Non so cosa si va Molto 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 natale